No, non funziona, continua a non funzionare. Comunque vi racconto le cose scorrendo semplicemente le slide in questa direzione. Non sono riuscito a fare la condivisione in modo opportuno. In questo caso quello che noi andiamo a vedere sono una semplificazione dell'equazione di Richards. In particolare la semplificazione che vi faccio vedere è una semplificazione unidimensionale. Questa sarà anche l'equazione che voi andrete a risolvere, cioè a risolvere sulla quale andrete a fare un esercizio che naturalmente vi verrà illustrato a tempo debito. Come vedete questa è l'equazione di Richards, dθw su dt, però rimane viva solo la componente verticale, d su dz kθw per il d su dz ψ più z, dove ψ è la pressione. In questo caso l'asse z è scelto verticalmente. Se l'acqua si muove verso il basso, la velocità e il flusso saranno negativi. In particolare, sì, va bene, ed è tutto giusto. Andiamo a vedere, per esempio, come si comporta una soluzione dell'equazione unidimensionale. Questo è un grafico che vi rappresenta in ordinate la profondità. Come vedete la profondità va in negativo, meno 4 metri. In ascisse, invece, avete la soluzione in metri. La soluzione che è riportata come valore negativo, come pressione negativa in questo caso. Non sarebbe quella che noi abbiamo chiamato soluzione, perché in questo caso il numero sarebbe positivo. Sarebbe quella che nelle lezioni precedenti avevamo chiamato psiconemme. La condizione, qui c'è un solo strato, un solo strato con falda drenante e vedete qui che questo è segnato, è raccontato nella linea in alto dove ci sono tutte le caratteristiche. In particolare, eta, il tipo di... beh, viene detto qual è il tipo di strato che vi sarà spiegato a momento debito. Eta sarebbe il livello della falda che eventualmente può formarsi in superficie. N è il numero di punti in cui la simulazione viene fatta verticalmente. Qui ci sono 400 punti, quindi i punti in cui... Sì, è discretizzata sulla verticale, ma ci sono 400 punti. C'è la psi in superficie e c'è la psi sul fondo. La psi in superficie è meno 4. Meno 4, in questo caso, metri. L'interpretazione di questa e poi la vedremo fra un attimo. Mentre al fondo è 0. Questa nella condizione iniziale. Poi abbiamo i valori di θ con S e θ con R, i parametri delle curve di Wangen-Hutten, K con S è la conducibilità idraulica e la saturazione, N è alfa, che sono le curve di Wangen-Hutten. Poi ci sono l'alfa e il beta dello specific storage, che vediamo che cosa è. In realtà, nella prossima serie di slide. La condizione iniziale, psi uguale 50, al time step uguale 50, adesso non so quale sia, no, non mi ricordo quale sia la discretizzazione dei passi temporali, però la condizione iniziale è una retta che va da 0 a meno 4. Sia nelle scisse che nelle ordinate. Questa retta è la condizione iniziale. È la condizione in cui io ho, è la condizione idrostatica. la falda qui, dov'è? La falda si ha quando psi è uguale a 0. All'interno della falda la pressione è positiva. Quanto positiva? Sarebbe ρgh in unità di energia, ma diviso ρg sarebbe h. Quindi, anche qui, la condizione idrostatica sopra la falda, posta a meno 4 metri, she è lineare e il coefficiente angolare in queste unità di misura e1, altrimenti sarebbe ρg, e1 ed è una retta. Cosa succede poi? Poi in questo caso viene evidentemente fatto piovere perché la suzione aumenta vicino alla superficie. Allora, la prima curva è quella blu, l'istante successivo è quello blu che vedete in superficie è spostato più o meno tra 2,5 e 3 metri e 3 metri sempre non saturo. Cioè viene fatta piovere una quantità di acqua che non è in grado di portare a saturazione il nostro sistema però rimane insaturo però in superficie è relativamente più saturo che nell'immediata profondità a meno 0,5 metri per esempio. La precipitazione continua ad aumentare perché vedete che in superficie continua ad esserci, in superficie si passa poi ad un valore di suzione più vicino allo 0 con la curva blu 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 chiaro e poi c'è la parte verde che più o meno rappresenta la fine della precipitazione. Perché dico che rappresenta la fine della precipitazione? Perché nell'istante 144 quello successivo la curva gialla il contenuto di acqua in superficie la suzione in superficie diminuisce quindi c'è meno diventa più negativa. In effetti l'acqua dagli strati superiori si muove verso il basso si muove verso il basso e si ridistribuisce verso il basso. Questo è un grafico profondità sulla verticale suzione sulla sull'orizzonte o pressione meglio sulle ascisse. Come va il contenuto d'acqua? Come intanto otteniamo il contenuto d'acqua dalle curve precedenti? Basta applicare le curve di ritenzione idrica. Se io applico le curve di ritenzione idrica al grafico precedente da psi passo a teta. Allora qui vedete che la condizione iniziale teta uguale a 50 è che il contenuto d'acqua in superficie è poco più di 0,10 all'inizio e in profondità è circa 0,38. Questo significa che questo sistema ha una porosità di 0, questa sabbia ha una porosità con 0,38. poi seguiamo vedete il contenuto d'acqua passa da poco più di 0,10 fino ad un massimo di nella curva verdina ad un massimo di 0,16 0,17 poi ritorna indietro. se voi girate la testa di 90 gradi in questo modo e osservate la curva rossa vedete che la curva rossa fa una specie di S in effetti questa è la rappresentazione della curva di ritenzione idrica perché la condizione iniziale è idrostatica e quindi esiste una relazione lineare fra la profondità e la suzione quindi la verticale vi dà un'idea del tipo di suzione che compare e la curva che e questa curva ad S è rappresentativa in qualche modo della curva di ritenzione idrica. Qui sono poste in evidenza le due curve messe in relazione fra di loro e in particolare sono mostrate in corrispondenza vari punti due punti nelle due curve differenti cioè qual è la corrispondenza che si ha tra suzione e contenuto d'acqua. Questa di nuovo pone in evidenza la corrispondenza che vi è fra contenuto d'acqua e suzione in un altro livello. Vedete che il contenuto d'acqua non è che può decrescere e poi crescere e quindi ci sono vari punti a livello della falda che hanno lo stesso contenuto d'acqua o la stessa soluzione. Quando la soluzione è uguale il contenuto d'acqua è necessariamente uguale per le ipotesi che noi abbiamo fatto sul nostro sistema. Riportiamo qui anche il carico piezometrico totale. Cos'è il carico piezometrico totale? Beh, qui quello che mostravamo era psi e teta. Il carico piezometrico totale è semplicemente psi più zeta. Nella condizione idrostatica che è la condizione iniziale psi più zeta è zero. Cioè non zero. Sì, è meno quattro ma è uniforme su tutta la verticale. E' il gradiente sulla verticale di quella reta lì è zero. Non cambia niente. Non c'è nessuna forza che muova l'acqua verso il basso. Viceversa, nelle altre condizioni che si vengono a verificare, la curva non è una reta, quindi esistono dei gradienti. Questi gradienti sono rivolti verso il basso e quindi fanno scendere fanno scendere l'acqua. Questo esempio era con una falda drenante. In realtà quella è la condizione al contorno che è stata posta qui sul fondo a quattro metri era una condizione di riclete, cioè che il valore della suzione a quattro metri è meno quattro, cioè è zero, scusate. Però l'acqua che arriva sul fondo non è che si accumuli, viene automaticamente mandata via, come se la falda accogliesse l'acqua e poi si abbassasse di conseguenza. un'altra condizione invece per esempio è questa che è diversa perché come vedete il valore della suzione sul fondo cambia ed aumenta. In questo caso il fondo è impermeabile dpsi su dz uguale a zero. Il fondo è impermeabile e così voi cosa vedete? Vedete che la condizione iniziale è una condizione idrostatica rappresentata in lilla violetto. Poi la prima condizione successiva è la condizione in blu poi appare poi ci si muoviamo ancora verso la curva azzurrina e la curva verde stessa pioggia di prima nella sostanza però pian piano l'acqua si ridistribuisce dalla superficie verso il fondo la condizione finale che è chiamata psi 270 è di nuovo una condizione idrostatica in cui però la falda si è spostata come potete vedere che la falda si è spostata guardate l'intercetta della curva rossa e capite dove diventa zero diventa zero a meno 3.8 metri ci sono qui l'acqua ha riempito 20 cm e la falda si è innalzata questo si vede ancora di più si poteva capire nel campo delle suzioni ma si vede ancora di più in questo caso in cui rappresentiamo il contenuto d'acqua vedete infatti che sulla destra il contenuto d'acqua massimo si innalza e rimane segnato con una linea verticale rappresenta il fatto che tutto qui si è infiltrato cioè tutto si è che la falda si è innalzata e tutto il nostro suolo è pieno d'acqua nella parte inferiore questo è un caso ancora diverso che viene chiamato compounding ponding in inglese vuol dire pozzanghera vuol dire pond è uno stagno significa semplicemente che qui abbiamo nella nostra simulazione abbiamo scelto un'intensità di precipitazione tale e viceversa dei parametri di infiltrazione tali anche per cui il contenuto d'acqua per cui il nostro sistema si satura in superficie partiamo sempre da una condizione idrostatica in questo caso poi vedete che il psi 50 fa una curva molto strana si discosta un po' dalla condizione idrostatica perché evidentemente l'acqua si muove in parte verso il basso o viene drenata inizialmente però in prossimità della superficie la curva violetta supera supera la suzione zero significa appunto che si è formato uno strato superficiale di quanto si è quant'è questo strato superficiale beh lo potremo valutare considerando quanto è positivo il punto estremo destro di questa curva violetta giudicando dal tipo di assi che sono presenti dovrebbero essere tra 5 e 10 centimetri di ponding sopra la superficie poi la dinamica che si viene a misurare sotto è sempre quella che avevamo visto in precedenza qui sono riportate sia le curve sempre di una sabbia con ponding le curve sia di suzione che di non sono molto visibili che cioè sia le curve di contenuto d'acqua che le curve del carico totale abbiamo visto una sabbia cosa cambia se noi mettiamo un'argilla se mettiamo un'argilla cambiano i valori di conducibilità idraulica che è molto inferiore a saturazione e le precipitazioni diventano improvvisamente importanti nel senso che il suolo argilloso non è in grado di recepire tutta l'acqua che cade dalla precipitazione mentre il suolo sabbioso è molto più conduttivo quindi quello che si vede qui è che si forma immediatamente ed è segnata qui con la linea tratteggiata rossa a livello di falda si forma immediatamente una falda in superficie cioè tutta l'acqua che cade penetra sì nel suolo ma si forma una falda superficiale questo si vede perché le pressioni a partire da praticamente dall'inizio del psi 96 depressioni nei primi 10 centimetri fino ad una profondità massima di circa 35-40 centimetri con la linea azzurrina diventano positive in questo caso vedete che non solo sono positive ma sono anche approssimativamente parallele alla linea di destra che era delle linee idrostatiche dalla quale siamo partiti in questo caso nelle argille anche l'altra caratteristica è che le linee c'è un vero e proprio fronte di propagazione della suzione che poi man mano diventa più addolcito proprio perché la conducibilità idraulica delle argille è molto limitata ecco qui qui in verità non è propriamente parallelo ma è quasi parallelo come vi avevo detto prima cioè una specie di condizione idrostatica in realtà è una condizione dinamica sulla superficie in cui però il contenuto la pressione che si viene a verificare è positiva su questo aspetto della pressione che è positiva magari ci soffermiamo anche dopo questo è il contenuto d'acqua che si viene a verificare come vedete negli strati superficiali il contenuto d'acqua è pari alla porosità che in questo caso era 0.5 e quindi se il contenuto d'acqua è pari alla porosità questo significa che il suolo è saturo vedete anche che in argilla praticamente nello strato inferiore ai due metri durante questa simulazione che pure è molto lunga nel corso del tempo penso sia una time step e penso che potrebbero essere ore queste cioè il sistema beh no non possono essere ore il sistema rimane praticamente inalterato cioè al di sotto dei due metri l'argilla praticamente qui cioè non si sente nulla della variazione che è avvenuta in superficie rimane tutto come nelle condizioni iniziali ok quella lì era una slide che era stata eliminata questa questa è un un altro esperimento sempre di infiltrazione in 1D ho una sabbia e un'argilla sabbia sopra argilla sotto fondo permeabile drenante sempre condizione iniziale idrostatica la linea la linea psi chiamata psi 50 poi che cosa succede sopra una sabbia sto analizzando il mio il mio sistema per tempi abbastanza lunghi e quindi non vedo il transiente nella sabbia perché voglio vedere il transiente viceversa nell'argilla che sta sotto che cosa si vede praticamente nella sabbia il sistema è quasi sempre in condizioni idrostatiche su queste scale temporali cioè non la prima non magari le prime due tre in cui c'è una leggera deviazione dalla linea retta ma le quelle successive sono tutte delle linee retta è come se praticamente il sistema si spostasse in condizioni parallele alla condizione idrostatica questa questo tipo di situazione è dettata dal fatto che c'è a un metro una condizione di forte discontinuità con un suolo che è di argilla e che ha quindi condizioni e parametri completamente differenti da quelli della sabbia ho detto condizioni di discontinuità in realtà non è così perché il sistema è comunque continuo comunque vedete che all'interfaccia assegnata dalla linea di tratteggio rossa compare compare una compaiono delle linee che sono completamente variate cioè all'interno dell'argilla si ha quello che peraltro avevamo visto prima cioè l'acqua nell'argilla si muove molto più lentamente e quindi le curve nostre curve variano la discontinuità è ancora più netta nel campo del contenuto anzi cioè la vera e propria discontinuità appare nel campo del contenuto d'acqua perché qual è il motore del movimento dell'acqua nel sulla verticale sulla verticale il motore è il gradiente di psi più z quindi quando noi andiamo ad analizzare nel campo dei gradienti si verifichiamo la variazione delle proprietà ma c'è rimane quasi rimane continuo attorno nel livello di separazione però i contenuti d'acqua anche nelle condizioni idrostatiche che è la linea lilla all'inizio la più a sinistra le condizioni di contenuto d'acqua nelle condizioni idrostatiche sono ben differenti all'interno dell'argilla e all'interno della sabbia in particolare c'è molta più acqua all'interno dell'argilla che all'interno della sabbia e quando si salta dall'argilla alla sabbia in modo subitaneo come avviene ad un metro si ha una discontinuità nella percentuale di contenuto d'acqua di fatti che è attorno allo 0,25 nella sabbia e attorno al 0,4 invece nell'argilla e questo è quello che dico anche qui questo è il carico totale psi più z come vedete nel caso della sabbia non è propriamente vero che per tutti gli istanti di tempo il carico totale sia una retta in cui gradienti sono 0 una retta verticale in cui gradienti verticali sono 0 perché ci sono le prime due condizioni la linea H96 e H108 e anche la successiva H120 e 144 che tali non sono però dopo un certo punto è come se fossero sempre delle che il total head è 0 quindi non c'è praticamente nessuna propagazione nella sabbia mentre tutta la propagazione avviene all'interno dell'argilla è già avvenuto tutto all'interno della sabbia è come se noi ci accorgessimo alla fine del processo quello che è avvenuto vediamo sempre delle distribuzioni idrostatiche quindi come vedete ho cercato di farvi leggere questi grafici unidimensionali che voi poi dovrete produrre nei vostri esperimenti vi caricherò anche alcuni esperimenti di questo tipo nel nel vostro sistema e sarà e poi cioè alcuni altri esperimenti che possono servire da esempio per il vostro sistema e poi una delle esercitazioni sarà per esempio produrre degli scenari di infiltrazione nel tempo e ovviamente nello spazio verticale ci sono delle domande che si Grazie.